Aspetti qualcuno? Sì, clienti. Ah, ma mi sembri nuova. Sì. Bene, bene, è proprio quello che cercavo. Monta. Cinquemila. Capirai, e che so, monta, monta. Cocò, come ti chiami? Cocò. Ma che fai, mi sfotti? No, mi chiamo Cocò. Ah, Cocò, ma tanto il nome non serve. Senti, Cocò, ti piacerebbe guadagnare un bel mucchietto di soldi? Robertuzzo ha detto cinquemila. Chi? Ah, il tuo ragazzo. Ma se per due giorni di lavoro ti offrissero quattrocentomila, Robertuzzo sarebbe Cocò. Cocò, sono io. Volevo dire, Robertuzzo sarebbe contento, no? Eh, beh...